Da Molfetta a Trani. Dopo tanti anni di calcio nella Molfetta sportiva e dopo l'esperienza non proprio positiva alla guida dello Sporting Fulgor, ultimo nel campionato di Serie D girone H appena concluso, Mauro Lanza sbarca a Trani. Hanno trovato dunque conferma le voci circolate nei giorni scorsi che volevano il vulcanico numero uno Molfettese interessato alla compagine del presidente Amato. Nonostante i malumuri espressi in maniera chiara dalla tifoseria bianca-azzurra verso Lanza e nonostante i reiterati appelli ad interessarsi alle vicende della società calcistica lanciate all'imprenditoria tranese dal sindaco medio bottale e dal vicepresidente Alberto Altieri, l'unico a mostrarsi realmente interessato al rilevamento delle quote di maggioranza del club si è mostrato proprio l'ex numero uno del Molfetta. In attesa di scoprire le reazioni della piazza, l'ufficialità del passaggio di consegne e di comprendere quale sarà il progetto tecnico del nuovo patron, cominciano a circolare con insistenza voci relative all'intenzione da parte di Lanza di procedere alla domanda del ripescaggio della Vigor in Serie D. Tale azione avrebbe possibilità di riuscita non certo remote, visto il brillante percorso dei ragazzi di Massimo Pizzulli nella fase nazionale della Coppa Italia di Lettanti, conclusosi con l'amaro KO nella finale di Firenze con il San Gheorgen.